L'organizzazione Torre di Guardia e in modo particolare il suo corpo direttivo ha lo spirito dell'anticristo? Si può considerare un anticristo? Per rispondere a questa domanda, innanzitutto dobbiamo cercare di capire che cosa significa il prefisso anti. Secondo un dizionario, il prefisso anti è una parola greca che significa contro, davanti, prima. Per esempio, la parola antibiotico significa un qualcosa che contrasta i batteri, perché letteralmente significa contro la vita, quindi un medicinale che è contro il proliferare dei batteri, dei microrganismi. oppure antibagno, un locale che sta prima del bagno, oppure antistante, un qualcosa che sta davanti. Quindi, questo è il significato della parola anti. Quindi, un anticristo o chi manifesta lo spirito dell'anticristo è un qualcuno che si mette contro, davanti o prima di Cristo. È chiaro? Allora vediamo di rispondere alle tre domande. Se il corpo direttivo si mette contro Cristo, se si mette davanti a Cristo e se si mette prima di Cristo. Il corpo direttivo si mette contro Cristo? Io vi elenco una serie di cose, valutate voi la risposta. Come ho detto altre volte nei miei video, il corpo direttivo, il corpo direttivo dei testimoni di Geova, l'organizzazione, insegna che Gesù non è Dio. Insegna che Gesù non si può adorare. Insegna che Gesù non si può pregare. Non gli viene tributato l'onore che gli spetta. Il nome di Cristo è scavalcato da un altro nome, che è Geova, e che non è neanche il nome di Dio. Mentre la Bibbia ci dice che l'unico nome per la salvezza è quello di Gesù Cristo. E non c'è altro nome, eh? Si legga Atti 4,12 o Efesini, capitolo 1, i versetti 20 a 22. Il corpo direttivo dei testimoni di Geova rinnega diversi insegnamenti di Cristo, ad esempio. Nega l'esistenza dell'inferno. Nega l'esistenza di uno spirito immateriale, di un'anima distinta dal corpo. Mentre Gesù ne parla, ad esempio si legga Matteo 10,28. Il corpo direttivo incitando all'avversione nei confronti dei nemici, soprattutto dei fuori usciti, etichettandoli, stigmatizzandoli con gli aggettivi che già molto probabilmente sapete, sta dimostrando di non avere ben chiaro l'insegnamento di Cristo di amare i propri nemici e di pregare per quelli che vi perseguitano. Si è molto più indulgenti, ad esempio, con un molestatore di bambini che con un fuoriuscito. Tanto per fare un esempio. Il corpo direttivo, ad esempio, nei suoi insegnamenti rinnega la croce perché per i testimoni di Geova la croce non è lo strumento su cui Gesù è stato immolato e sacrificato per noi, si è sacrificato per noi, ma è un palo. Inoltre, questa organizzazione manifesta un elevato controllo psicologico e mentale in ogni singolo aspetto della vita dei suoi fedeli. Questo è un qualcosa che invece Gesù condannava. Si vede, ad esempio, le migliaia di regole e regolette che Gesù rimproverava ai farisei quando diceva loro, rimproverandoli, che mettevano carichi sulle spalle della gente e loro non li volevano muovere neppure con un dito. Inoltre, il corpo direttivo induce a predicare un Vangelo diverso e distorto rispetto a quello che ha lasciato insegnato Gesù e successivamente gli Apostoli. Questa organizzazione insegna la distinzione di classi fra credenti. Ci sono credenti che vanno in cielo, credenti che rimangono sulla terra, inducendo i suoi seguaci a rifiutare il pane ed il vino che rispettivamente sono il corpo e il sangue di Cristo alla commemorazione annuale eccetto, fatta eccezione, di un numero chiuso di persone. Anche qui vanno contro gli insegnamenti di Cristo. Ed è un po' come Gesù disse sempre ai farisei guai a voi perché voi non entrate nel regno dei cieli e volete impedire anche ad altri di entrarvi. Quindi, ricapitolando, il corpo direttivo si mette contro Cristo alla luce di questi aspetti ognuno di voi si dia una risposta. Il corpo direttivo si mette davanti a Cristo? Perché abbiamo detto che anticristo significa anche mettersi davanti a Cristo. Beh, c'è da dire innanzitutto, come già ho detto in altri video, che ad esempio vedasi la formula battesimale, soprattutto l'ultima che è uscita, come viene somministrato il battesimo all'interno di questa associazione. È un battesimo completamente diverso rispetto a quello che Gesù invece comandò di fare nel Vangelo di Matteo al capitolo 28 il versetto 20. Inoltre, anche se non in modo esplicito e diretto, ma in modo molto subdolo, questa organizzazione nell'organo del suo corpo direttivo si pone in una posizione di mediatore tra l'uomo e Dio. Ripeto, non direttamente, ma in modo subdolo. Perché? Perché si è autoproclamato l'unico canale di Dio sulla Terra, l'unico di cui dover seguire le interpretazioni della parola di Dio attraverso le migliaia di tonnellate di pubblicazioni stampate o in formato digitale. In caso contrario, se non ci si attiene a queste interpretazioni, si viene tacciati di apostasia e si viene cacciati dalla congregazione. quindi, in modo molto subdolo, il corpo direttivo si pone in una posizione di mediatore tra l'uomo e Dio. Anche se formalmente a parole insegna che l'unico mediatore è Cristo. Attenzione, infatti ho detto e lo ripeto per la terza volta che questo è fatto in modo molto subdolo, non in modo diretto. Il corpo direttivo inoltre si pone in un ruolo di corredentore insieme a Cristo. Anche questo anche questo in modo subdolo, anche questo non lo fa in modo diretto, palese, plateale. Perché dico questo? Beh, perché quando l'organizzazione insegna che per avere la salvezza non si può prescindere dall'essere un testimone di Geova, quindi di far parte formalmente dell'associazione torre di guardia, ebbè, a quel punto ti stai mettendo in un ruolo di corredenzione insieme a Cristo. Mentre invece Gesù ci disse che è Lui la via, la verità e la vita e che la salvezza ci è data per grazia mediante la fede nel suo nome. quindi il corpo direttivo ricapitolando si mette davanti a Cristo? Anche qui alla luce dei fatti lascio a voi la risposta. E infine il corpo direttivo si mette prima di Cristo? i motivi di cui sopra per rispondere possono essere già sufficienti, ma vi aggiungo un altro aspetto. Il corpo direttivo in realtà si mette prima dello Spirito Santo in quanto si sostituisce ad esso autoproclamandosi unico interprete veritiero delle verità e delle profezie bibliche. E siccome come dice la Bibbia in 2 Corinti 3,17 il Signore Gesù è lo Spirito mettendosi prima dello Spirito Santo o al posto dello Spirito Santo si mette prima di Cristo. addirittura dall'ultima formula battesimale quella più recente lo Spirito Santo non se ne fa più menzione è sparito. Infatti la triade e la trinità geovista è Geova Gesù e l'organizzazione col suo corpo direttivo. Quindi alla fine di questo video torniamo alla domanda retorica iniziale. Il corpo direttivo che governa gestisce l'organizzazione dei testimoni di Geova ha o no lo Spirito dell'Anticristo? Ripeto a ciascuno di voi la propria riflessione e che ciascuno di voi possa rispondere da sé a questa domanda. Vi ringrazio ricordo prima di terminare che oggi è il 7 aprile oggi va in onda la famosa commemorazione della morte di Cristo dei testimoni di Geova. Sono sicuro che molti che stanno guardando questo video siano stati invitati a vederla online perché ovviamente per ovvi motivi i testimoni di Geova non possono riunirsi fisicamente. Ve lo ricordo se qualcuno non sa in che cosa consiste questa celebrazione e soprattutto se questa celebrazione è scritturale è basata sugli insegnamenti di Gesù oppure no se qualcuno non l'ha fatto lo rimando alla visione dei video su questo canale che parlano proprio della commemorazione della morte di Gesù così come viene celebrata dai testimoni di Geova sperando che possa esservi in qualche modo utile io vi ringrazio vi saluto vi mando un abbraccio e alla prossima di Gesù di Gesù di Gesù di Gesù Grazie.